Musica Ben ritrovati per una nuova puntata di Col di Retti Flesch da Michelangelo Pellegrino e da Chiara Serra Il pagamento del saldo delle domande della PAC per l'anno 2012 avverrà entro il marzo 2013 La buona notizia attesa dal mondo agricolo piemontese e dai malgari in particolar modo emerge dall'accordo scaturito tra l'assessore regionale dell'agricoltura Claudio Sacchetto le organizzazioni professionali agricole e la direzione di Arpea Il servizio Musica L'accordo sul pagamento PAC è nato grazie alla richiesta presentata da Col di Retti Piemonte lo scorso 8 febbraio all'assessore regionale Claudio Sacchetto che ha dimostrato attenzione alla richiesta formulata dall'organizzazione professionale agricola che puntava ad evitare ulteriori ritardi nei pagamenti per via della complessa burocrazia Dicono Roberto Moncalvo e Bruno Rivarossa, presidente e direttore di Col di Retti Piemonte L'intesa raggiunta rappresenta un punto fermo nella risoluzione della complessa problematica La burocrazia rischiava di ritardare i pagamenti della PAC alle imprese agricole Siamo riusciti ad individuare una soluzione che consente di limitare i ritardi soprattutto nei confronti dei malgari che sono stati colpiti dalla scarsità di pioggia per cui il periodo di alpeggio è stato compromesso e i costi di produzione notevolmente aumentati Scandalo carnequina sono circa 200 i diversi tipi di confezioni alimentari ritirate dal commercio in almeno 24 paesi in gran parte europei ma anche in Asia e in America Col di Retti ha invitato i colossi industriali investiti dallo scandalo con danni che hanno superato il miliardo di euro tra confezioni sequestrate e distrutte ad acquistare i prodotti alimentari garantiti come la pregiata carne di razza piemontese L'analisi di Col di Retti sulla base del monitoraggio del portale ifoodalert.net evidenzia che ad essere coinvolte nello scandalo sono le principali multinazionali della distribuzione commerciale e dell'industria alimentare da Findus a Nestlé, da Carrefour a Doshan fino a Lidl insieme ai punti vendita di Ikea in diverse parti del mondo Lo scandalo ha messo in evidenza l'esistenza di un giro vorticoso di partite di carne che si spostano da un capo all'altro dell'Europa grazie a intermediazioni poco trasparenti Il presidente e il direttore di Col di Retti Piemonte Roberto Moncalvo e Bruno Riva Rossa hanno invitato i colossi industriali ad utilizzare la carne della pregiata razza piemontese per i ripieni di tortellini e ravioli e dalla Nestlé rispondono che valuteranno la proposta con interesse Aggiungiamo noi che l'interesse principale da salvaguardare è quello dei consumatori a poter scegliere prodotti genuini con un'etichettatura chiara per essere certi di cosa si mette nel piatto In relazione alla Taras, la nuova imposta approvata dal precedente governo sui rifiuti e sui servizi Col di Retti ha chiesto a tutti i sindaci della provincia di Cuneo di prevedere specifiche esenzioni e riduzioni tariffarie per il settore agricolo Il servizio Nelle zone rurali alcuni servizi non sono garantiti ed altri, pur essendolo, non sono caratterizzati dalla stessa qualità ed efficienza che è riservata alle zone urbane evidenzia col di Retti Cuneo nella lettera inviata agli amministratori di tutti i comuni cuneesi Le novità introdotte nell'ambito della fiscalità, anche comunale hanno comportato un notevole appesantimento dei tributi che già gravano sulle aziende agricole che si trovano ad affrontare e a doversi destreggiare anche sotto questo profilo in una situazione economica sempre più difficile Per questo l'organizzazione chiede in linea con quanto previsto dal legislatore che ne ha espressamente riconosciuto la facoltà di prevedere, oltre alle esenzioni stabilite dalla normativa in materia ulteriori riduzioni per il settore per le peculiari caratteristiche e per l'importante ruolo svolto anche a presidio del territorio dalle aziende agricole già fortemente tassate dall'IMU In attesa di un accordo definitivo che deve necessariamente coinvolgere le maggiori istituzioni europee Consiglio, Commissioni e Parlamento potrebbero aprirsi nuovi spiragli per salvare l'etichettatura facoltativa della carne bovina grazie al Parlamento europeo Insieme all'Italia le associazioni di allevatori francesi, irlandesi e spagnole sono orientate a salvare il sistema volontario di etichettatura L'argomento è stato affrontato in sede di Commissione Agricoltura Europea dove erano presenti anche i dirigenti di Aspro Carne Piemonte Per quanto riguarda la campagna commerciale 2012-2013 delle mele in Piemonte nonostante le forti gelate nel mese di febbraio 2012 la produzione è sostanzialmente pari a quella della campagna precedente non possiamo dire la stessa cosa per il Kiwi il servizio Fin dall'inizio della campagna commerciale sono state registrate quotazioni in rialzo ed un'elevata richiesta sia per il prodotto fresco che per quello avviato alla trasformazione industriale Per la varietà del gruppo Gala gli stock sono ormai pressoché esauriti e la destinazione prevalente è stata oltrooceano con l'aumentata richiesta da parte dei paesi africani Per le varietà tardive si è mosso il mercato europeo e le quotazioni sono oggi stabili su livelli superiori alla scorsa stagione Anche il prezzo del prodotto destinato alla trasformazione industriale si è posizionato sin da subito su livelli migliori rispetto alla campagna commerciale precedente con una notevole domanda soprattutto dalla vicina Francia Finalmente una boccata d'ossigeno per le aziende frutticole dichiara Michele Quaglia membro di Giunta Coldiretti con delega al settore e presidente della zona di Saluzzo Le imprese sono state pesantemente condizionate dalla passata stagione dalla quasi totale perdita di produzione del kiwi e dalla parziale riduzione di produzione di pesche e nettarine dove continua la serie di campagne commerciali deludenti e ancora lontane dalla remunerazione dei costi di produzione Questo risultato positivo ci fa ben sperare per il futuro Le barriere commerciali tra Unione Europea e Perù sono state abolite a partire dal 1 marzo 2013 lo ha reso noto la Commissione Europea L'accordo commerciale migliorerà notevolmente l'accesso al mercato per gli esportatori dell'Unione Europea e del Perù Nel lungo periodo gli esportatori di prodotti industriali e ittici non dovranno più pagare i dazi doganali e saranno notevolmente aperti i mercati per i prodotti agricoli Coldiretti Flash finisce qui un caro saluto e un appuntamento alla prossima edizione da Michelangelo Pellegrino Vi ricordiamo che l'edizione è anche rivedibile sul sito www.cuneo.coldiretti.it Un saluto da Chiara Serra Grazie a tutti